Parma, capitale italiana della cultura 2020, alvia oggi alle ore 17.30 a Palazzo del Governatore la rassegna che presenta il progetto del fotografo Oliviero Toscani con l'assessore Michele Guerra. Non ci sono particolari richieste del fotografo per partecipare a questo grande progetto. Curiosità e voglia di fotografare. Operativamente si inizia il 13 febbraio. Come? Come? Con un gruppo di volontari che vorranno partecipare in questo progetto. Che è un progetto sperimentale. Credo che nessun'altra città abbia mai fatto questo. 95% di ciò che conoscete lo conoscete perché ne avete visto delle fotografie. Ormai tutto quello che conosciamo lo conosciamo perché avevamo visto le foto. Ciò che conosciamo realmente è pochissimo. Ormai viviamo in un mondo d'immagine. L'immagine è la memoria storica dell'umanità. È stata inventata 150 anni fa, no? Circa, già ancora qui. Ed allora esiste la vera storia. Prima erano racconti, erano disegni, erano bozzetti, erano schizzi. La mia idea è fare un documento, produrre un documento fotografico unico al mondo di una città. E mi piace che sia Parma perché è una città sempre un po' particolare, un po' slobba, un po' eccentrica, culturalmente è sempre stata... È una città che ha prodotto più giornalisti, per esempio, curiosi. I parmigiani sono curiosi. Ha un'immagine di Parma che l'ha fatta innamorare? Devo farla. Devo farla. Sono qui per questo, ragazzi. Siete voi che dovete farmi innamorare. Tantatevi da fare. Vengo qui, voglio vedere quanto bravi siete. Mi hanno detto che siete i più belli d'Italia, è vero? Sono qua per vedere. Comunque siete più fighi, sempre stati, no? Parmigiani siete in centro dell'Italia, vedete la gente che va a nord, vedete la gente che va al sud. Quindi chiacchierate tanto, parlate tanto, avete la remoscia, la sapete più lunga del resto dell'Italia, più lunga del resto dell'Italia, quindi vedremo se siete veramente così. Siete veramente fighi. Un consiglio ai fotografi che ci saranno anche oggi. Perché nella fotografia è importante provocare e saperlo fare? Ma nella fotografia... Senti, la parola provocare non è una parola negativa. Vuol dire provocare intelligenza, pace, bellezza, amore. No, provocare. Se l'arte non provoca, cosa serve? Se tu nella tua vita non provochi qualcosa, sei andato a fare. Senti, la parola provocare non è una parola.